Ok 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 campioncini, il pokemon che andremo a catturare e a sfidare nell'episodio di oggi è quel pokemon leggendario là in fondo Cresselia nella sua versione spaziale e non vedo l'ora di andare a conquistarlo e a prenderlo per inserirlo all'interno della squadra di pokemon speciali Della vostra serie di pokemon preferita, proprio questa qua, quindi campioncini benvenuti e bentornati in questo nuovo video Oggi andiamo a provare a catturare questo Cresselia che è stato praticamente ottenuto e spawnato all'interno di questo mondo Dopo che nello scorso episodio abbiamo vinto la sfida di Steph e Fere, in realtà di Fere e Steph che sono là in fondo Che avevano un sacco di pokemon nella loro versione spaziale, se avessi vinto quella sfida, quella battaglia io avrei ottenuto uno dei loro pokemon speciali qua davanti Ma essendo che il mio team è completamente distrutto perché ho appena terminato quella battaglia e quel video da registrare Ho necessariamente bisogno di rifare una nuova squadra e viene in aiuto Antoniux col suo commento e ci serve mettere all'interno del suo team Typhlosion che in realtà già avevo selezionato, quindi un po' il fatto ha portato a far sì che già nell'episodio prima avevo portato questo Typhlosion di Antoniux Poi Eternatus che purtroppo è scarico per noi, Kyogre che io cambio con il Garchomp perché mi serve un pokemon per le catture e il Garchomp è fondamentale per noi Quindi Kyogre, tanto è già a terra, è fainted come notate Poi Necrozma fuso con il Solgaleo, noi dovremmo avere qua in giro Necrozma fuso con il Lunala Oh com'è Len Lunalizer, eccolo qua Sì, andiamo direttamente... No, Electrode non è il momento, ho bisogno di catturare in crescita ma devo fare veramente tutto quanto super di corsa Quindi andiamo a smontare questo Necrozma Lunala Andiamo a cercare Solgaleo che non so dove Diamine sia, non è qua in giro se non mi sbaglio, no, Solgaleo dove Diamine è andato? Eccolo qua, perfetto Prendiamo Len Solarizer che sarà l'oggetto che ci aiuterà a fondare il Necrozma con il Solgaleo e fondiamolo Graveler, dannazione a te, mi hai bloccato lui a fusioni che volevamo vedere Eccolo qui, la mia versione preferita del Solgaleo con il Necrozma E il vostro pokemon leggendore preferito qual è? Scrivetelo qua sotto nei commenti con l'hashtag sonouncampione che vi saluterò nel prossimo video Lasciatevi piace e iscrivetevi al mio canale se siete nuovi Cresselia non mi scappare che ho bisogno di costruire la squadra Adesso ci manca solamente Raiquaza che non ha specificato quale No, abbiamo questo qua con lo Shiny, credo che intendesse questo E il Geridos radioattivo che ho perso in giro Eccolo qua, perfetto Cresselia hanno i due C'è di buono che si è incastrato qua sotto e di conseguenza non ci sono tutti gli altri pokemon attorno da sfidare Perché solitamente nell'ultra dimensione abbiamo 5 pokemon ogni volta da sfidare Adesso, io ho un pokemon che comunque è a livello 90 Un bel po' di danno io lo può fare Infatti l'abbiamo tolto più o meno il 30% di vita Il che è una cosa molto molto interessante Io proseguo in questo mondo di Dragon Claw Lo portiamo al 15% di vita Così l'abbiamo abbassato veramente di tanto Ora, cosa posso fare? Faccio assolutamente una mossa come false swipe Cioè falso finale Che mi dà la possibilità di catturarlo con il meno della vita possibile Infatti l'euro 0,3% Ora, siamo comunque in una fase di scorsa della battaglia Le sue versioni segrete attorno Sarebbe incredibile Quindi sta a voi Ora, lui si è ricurato la vita Gli faccio un altro Dragon Claw Non ha funzionato il mio Dragon Claw Oh no, si è ricaricato tutta quanta la vita Eh no però, questa tecnica va di... No, si sta ricaricando A questo punto Dato che nello scorso video Abbiamo sfidato se è fair Abbiamo vinto Abbiamo comunque ottenuto anche tante cure Di conseguenza Io le utilizzo Per attaccare questo Cresselia E per curarmi anche Così sono super tranquillo E utilizzo sempre il Garciom Per appunto attaccare Perché ha delle mosse Che per noi sono tanto importanti In questa battaglia Soprattutto falso finale Che andrò a utilizzare in questo momento Però ha missato Dannazione No, basta Cresselia Garciompa a terra Garciompa a terra Abbiamo un enorme problema Vabbè, lo andiamo a ricurare intanto Che comunque ci servirà sempre Io ora però vado di crunch Magari qualche danno Glielo possiamo fare No Hurricane Qualcosa Questo Cresselia è diventato troppo veloce Quindi non possiamo colpirlo È difficile la situazione Perché mi sta continuamente Ad abbattere Garciompa E lui Utilizzando tutte quante le siamo Siamo al turno 45 È diventato troppo veloce E ora mi sta facendo ricambiare Pokémon Eh perché ovviamente Il Gheridos me l'ha abbattuto È una situazione difficile Ve lo assicuro Ok, lo abbiamo ribassato di vita Ora tecnicamente Lui non dovrebbe più Aver la possibilità di curarsi E io spero che veramente Rimanga ancora Allo 0,3% Adesso Riproviamoci a questo punto Andiamo di Abbiamo una Master Ball A disposizione Però dopo tutti quanti Questi turni Potrei anche utilizzarla Ma non vorrei Sprecarla ragazzi Perché ci sono altri Leggendari più forti Che noi vogliamo catturare Con la Master Ball Mi ha riabbattuto Il Garchomp Eh Con cosa vado in campo Con Rayquaza al 100 Dai Che comunque È un Pokémon potentissimo È uno dei vostri preferiti A quanto ho capito E che volete vedere Forse di più All'interno degli episodi Quindi se volete che tenga Magari di più Rayquaza Ditemelo nei commenti Magari Intimidisce questo Cresselia Che non si vuol far catturare Oh È tosta Ragazzi è veramente Una situazione molto difficile Due giri di Ultra Ball Ah Eh ragazzi Sarebbe bello Sarebbe bello utilizzare La Master Ball Eh per carità Sarebbe molto semplice Però Non voglio sprecarla È quella la situazione Siamo già praticamente Si è bloccato La roba del turno La scritta del turno Ragazzi è bloccata completamente Eh Si è bloccata il turno 45 Vabbè Lo sappiamo che è un po' Buggata la Pixel Ragazzi Non ci posso fare assolutamente niente Però si è bloccata La scritta del turno Vabbè Va bene Andiamo avanti così Due giri di Ultra Ball No Niente Neanche due giri di Ultra Ball Possiamo fare Rifacciamo ancora Altri giri di Ultra Ball Perché sono due nei fai Fammi un terzo Giusto per fiducia Fammi un terzo giro Dannazione E non ce la facciamo È incredibile questa cosa Però vabbè dai Prima o poi Mi sa che andremo a utilizzare Una Master Ball Perché ho paura che tra un po' Lui si autodistrugga E ha sciottato anche il Rayquaza Eh 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 Però lui ha 0,3% di vita Cioè come è possibile Che ha lo 0,3% di vita È incatturabile Tre giri di Ultra Ball Ha fatto il terzo però Eh Meno male Quarto giro Preso Mamma mia ragazzi Ce l'abbiamo fatta Fatta finalmente Ora possiamo Effettivamente Tornarcene a casa Perché abbiamo catturato Un grandissimo Pokémon Con un'ottima squadra Che ci è stata costruita Dal nostro amico di oggi Antoniux Quindi lo ringrazio E mi raccomando ragazzi Commentate anche voi Per creare la vostra squadra Ma dato che La sua squadra ha funzionato Tanto bene Ora voglio costruire Una mia squadra personale Che posso utilizzare Con gli ultimi Pokémon Che ho catturato All'interno di questa serie Perché ce ne sono stati tanti Magari tanti voi Sono stati in vacanza Anche ultimamente Quindi un po' Ve li siete persi Ma abbiamo Un'infinità di Pokémon Molto interessanti Da dover E poter Osservare Infatti Quelli che ho qua attorno Sono gli ultimi Sei Pokémon speciali Che abbiamo catturato All'interno di questa serie Abbiamo Budswall Che è un'ultra creatura Shiny Poi abbiamo appena catturato Adesso in questo episodio Questo Cresselia Che è il primo Pokémon Spaziale Leggendario Catturato Abbiamo Nineteenth In fondo Che è stato il primo Pokémon Spaziale Che abbiamo catturato All'interno della serie Eccolo qua Iron Leaves L'ultimo Pokémon Paradosso Leggendario Che abbiamo catturato Molto forte Ma io in generale Preferisco Walking Wake Come Pokémon Paradosso Poi Per concludere Abbiamo catturato Questo Steelix Nella sua versione Ghiacciata Che è Bello 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 Sarebbe bello In realtà Magari Poter girare In questo episodio Dato che voglio fare Un po' di esplorazioni Con questi Pokémon Ma adesso Andiamo a curare tutti Perché ovviamente Credo di non averli mai curati Dato che abbiamo Questo Cresselia All'uno di vita 59 Uno di vita 70 Cioè sono tutti quanti Un po' completamente a terra Quindi Andiamo a curarli E sarebbe bello Anche potenziarli Perché io non so Onestamente come loro Siano messi a livello di mosse Ok Proviamo a buttare un occhio Direttamente qua Magari potenziando E migliorando Questo Cresselia Abbiamo tante scelte Come anche Aurora Bima Posti Future Sight Poi abbiamo Stilix Che è un Pokémon Che in generale Ragazzi tenuto in squadra Con un livello molto alto Potrebbe essere interessante Da mettere All'interno di una squadra Ufficiale Quindi Potenziamo anche questo Stilix Già sto scegliendo Delle mosse Che potrebbero essere Interessanti Da dare Puoi imparare anche Le mosse Di tipo Drago Stilix No Non voglio migliorare Magari questo Iron Leaves Perché mi interessa Una fina una certa Ora sto guardando Il nostro Stilix Puoi imparare anche Mosse interessanti Ragazzi Quindi Magari nei commenti Siete voi A costruire il moveset Di questa squadra qua Che può comunque essere Bello che interessante E bello che potente Perché anche per esempio Questo Iron Leaves Può essere potenziato Come avete visto Però Ho appena finito Le mie Poké Ball Quindi andiamo a craftare Direttamente Dato che qua Ho 6 ghicocche rosse Come è possibile Così poche Scusatemi Beh andiamo a raccoglierle A questo punto Dato che qua abbiamo Dietro la pianta Delle ghicocche rosse Però mi sembrava Che nello scorso video Avrò farmato anche Le ghicocche rosse Dovrò sbagliato Quindi le raccogliamo Tutte quante in questo momento Perché senza queste ghicocche Sicuramente non posso Migliorare le mosse Dei miei Pokémon Mettiamo a cuocerle E in questo modo Otterremo 45 ghicocche Cotte Che diviso 3 Fanno 15 Poké Ball Che di conseguenza Per ogni mossa Sono 2 Poké Ball Quindi abbiamo 7 mosse Migliorabili All'interno della nostra squadra Nuova e speciale Intanto che Stavo aspettando Però è spawnato Un boss ultimate Un Vical Vault Dove sta andando Questo Vical Vault È bellissimo come Pokémon Per carità È strano che sia boss ultimate Però io lo sfido molto volentieri Magari col mio Steelix Che è una mossa come Stone Age Che potrebbe essere interessante Da fargli Che però non ha funzionato Lì ci ho tolto pochissimo Perché sto utilizzando Delle mosse Che non sono tanto efficaci Contro di noi Magari Fire Fang Può fare un po' più di danno No Anche io non sono per niente Efficace contro di lui ragazzi In realtà Con Stone Age lo sarei Però solo di critici Potrei andare avanti Ma comunque Curiamo il mio Steelix Perché mi sembra bello E importante E che potrei utilizzare Per vincere direttamente Contro questo boss ultimate E proviamo ad abbatterlo Dai Vika A volte manca poco Vita rossa Il mio Steelix Sta molto bene Dopo la cura Che l'ho appena dato Eliminato Oh ha funzionato Steelix Molto bene Meno male che l'abbiamo potenziato Caramello XB E un altro Adamantorb Che sempre teniamo da parte Dove diamo in andato Perché prima o poi Andremo a ottenere Un bellino Uh un altro magherna Boss ultimate Dicevo Andiamo a ottenere prima o poi Anche Pyke Nella sua versione segreta origine E anche Dialga Nella sua versione segreta origine Ma adesso c'è anche questo magherna A cui pensare Io quasi quasi Gli catapulto Contro questo Ninetales Che con Inferno Un po' di danno Io lo potrebbe fare Che però non ha colpito Dai dannazione Ninetales Proviamo di Iron Leaves A questo punto Close combat Shottato Ok va bene Mi sa che lo Steelix È uno dei pochi che può Ma neanche lo Steelix Ho paura Perché questo magherna Potrebbe essere un po' troppo potente E soprattutto con Cristiano Abbiamo una mossa Che è buona ed efficace Ma ci servirebbe Buzzword forse qualcosa Beh delle mosse di tipo lotta Che potrebbero essere utili Però ragazzi Mi ha letteralmente sciolto Tutta la squadra Pokémon Che avevo Tutta 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 distrutta Tutta Però vabbè facciamo una cosa Ricuriamo tutti quanti Mi rubo giusto al volo Il mio Eternatus Perché i boss Ultimate vanno tutti eliminati Mai lasciati perdere Perché sono importantissimi Per il drop Che possono darci Anche perché se vogliamo Poi portare il nostro Tiflosion Il primo starter A livello 100 Ci serve La caramella XP Candy XL O la caramella rara O quello che ci dropperà Per poterlo potenziare Quindi per favore Magherna Ti fai un attimino Abbattere Ci fai questo favore Un attimino Non me lo shottare L'Eternatus No E alla fine Vai Meno male Abbiamo rischiato tanto Ragazzi Perché voi non lo vedete Ma il mio Eternatus Aveva il 50 di vita Su 170 E infatti Una bella caramella Tanta roba Ci ha droppato Dicevo Una bella caramella XP Candy XL Ce l'ha data Quindi Se volete Se lasciate tanti mi piace Nel prossimo episodio Possiamo andare a potenziare Il nostro Tiflosion E direi che per questo video qua È tutto Nel prossimo magari potenziamo Questo team Se vi piace E potenziamo anche il nostro Super Tiflosion E vedremo cosa succederà Noi ci fermiamo qua Campioncini Mi raccomando Lasciate un mi piace E ciao a tutti